amici web spettatori ben trovati su unica channel al nostro settimanale di approfondimento giornalistico accanto a me il direttore di unica channel giuseppe de silva ma non siamo qua per parlare dei fatti più importanti ancora che la tua apertura gara giovanni insomma il clima diffuso purtroppo ci prende ma pensavo che stava al mercato a vendere le patate perché hai fatto questa apertura insomma molto bello veramente così no si ci ascoltano i nostri amici web spettatori un caro saluto a tutti vai giovanni il mio è un brutto destino è stato un brutto destino parliamo di cose serie esatto esatto consono a quella professionale e allora iniziamo con l'argomento più diciamo che ha tenuto banco questa settimana non si parla di maltempo questa ondata di gelo proveniente dai paesi del nord europa che praticamente stanno paralizzando l'italia abbiamo anche conosciuto dei termini nuovi quali blizzard quali che altro vende c'è insomma dal non ho sentito parlare solo di blizzard ma ce n'è pure un altro il bullion dalla quale viene la famosa frase la bulliana no tendi la tempesta eccetera insomma abbiamo conosciuto cari amici insomma web spettatori abbiamo conosciuto un periodo veramente nero dal punto di vista del come dire del nostro rapporto con il tempo perché in italia siamo abituati al sole soprattutto da queste parti e invece ci siamo trovati sommersi dalle neve abbiamo funzionato non abbiamo funzionato come paese ci stiamo interrogando su queste cose in questi giorni insomma anche dalle nostre parti qui a napoli perché insomma abbiamo visto che il paese ha avuto delle grosse difficoltà e le ha avute in particolare nel centro nord in questo ultimo periodo le stiamo subendo qui al centro sud probabilmente bisognava organizzarsi un po meglio perché queste nevicate erano previste si sapeva che saremmo andati tutti in difficoltà perché non siamo abituati a questo tipo di emergenza il nostro governo avrebbe dovuto fare di più il nostro presidente monti se ne è andato a new york fatto bene per carità poi ne parliamo dopo però chi è rimasto qui i nostri amici ministri avrebbero dovuto coordinarsi un po meglio e fare in modo di portare qualche auto in più alle popolazioni sia del centro nord che del sud che in questi giorni sono veramente in grande difficoltà cioè sembra che in italia appena arriva un po di maltempo però perché non è che poi sia stata già quale catastrofe naturale quale calamità va bene no insomma diciamo che in realtà l'evento eccezionale c'è stato perché tutti quanti ricordano la famosa nevigata del 56 famosa canzone anche andata da mia martini sulla nevigata del 56 Roma imbiancata eccetera questa volta forse abbiamo avuto un fenomeno ancora peggiore perché Roma è stata imbiancata per due volte in questi giorni ancora un'altra nevigata quindi il fenomeno c'è stato c'è stato il solito presto a pochismo diciamo nostro da parte delle autorità di governo che avrebbero dovuto fare di più avrebbe dovuto coordinarsi meglio per evitare insomma vedessimo di roma accusa la protezione civile invece di fare sistema noi qua ne conosciamo gli effetti invece di fare sistemi si litiga è un'immagine brutta che abbiamo dato anche perché in questo momento abbiamo bisogno di efficienza e non di chiacchiere buttate al vento allora lo hai detto prima lo hai anticipato prima il presidente del consiglio monti in america ha parlato con obama la casa bianca ma si è mai mi ha dedicato anche la copertina l'uomo che salverà l'europa mentre invece aveva dedicato la copertina berlusconi dicendo con lui a lui affosserà l'europa va beh ci sono i meccanismi che noi ben conosciamo insomma anche da questa nostra piccola tribuna arrivano i meccanismi ho parlato i meccanismi dell'informazione dove quando ci si innamora di certi cliché di certi luoghi comuni facciamo di tutto per portarli in fondo fino diciamo alle estreme conseguenze ormai tutti in europa dicevano che berlusconi era cotto nel senso che pensava solo al bunga bunga non pensava invece a fare delle cose utili per il suo paese e di conseguenza quindi anche per l'europa invece abbiamo il professor monti che ha uno stile completamente diverso per cui il presidente monti fa bene le cose che sta facendo per il nostro paese berlusconi può pensare a buonga buonga tranquillamente una cosa che possiamo dire che da quando berlusconi non è più presente del consiglio non abbiamo più notizie buonga buonga ci dispiace moltissimo noi eravamo tanto contenti di sapere ogni tanto che berlusconi divertiva perché quando meno se noi soffrivamo a meno c'è stato uno in italia che si divertiva invece qua non si diverterà con più per le scuole si divertono quelle del pd non lo so no no perché è recente la notizia che i rappresentanti regionali del partito democratico abbiano partecipato alla quest'inaugurazione di una nuova trasmissione ragazze vestite con abiti molto succini stile berlusconi anche in questo caso qua stile berlusconi siamo sempre lì e siamo sempre lì perché poi lo vogliamo copiare tutti quanti al nostro amico silvio insomma è però poi non abbiamo le stesse caratteristiche le stesse capacità di fare no diciamo una cosa seria invece che pare sia stata segnalata la presenza in questo locale di diversi politici anche autorevoli della regione campagna però noi diciamo ricordiamo che questi stessi politici senza voler fare nomi andatevi a cercare su internet ritrovate e questi stessi politici brillano per assenza in regione si fanno vedere molto presenti invece in queste feste noi quali stiamo ancora aspettando per sapere che vogliono fare sulla tarsu su sui servizi eccetera però siamo ben contenti di sapere che verso le ore 24 qualcuno si fa vivo in questi bei locali WIPS di Napoli il PD dovrebbe pensare bene noi siamo amici del PD insomma no parliamo anche un attimo facciamo una leggera digressione di quello che sta accadendo anche a Casoria c'è l'amministrazione comunale di Casoria che praticamente manda deserti due tre consigli comunali su quattro degli ultimi che si sono verificati perché perché il PD sta ridicando con l'api e di conseguenza non mettendosi d'accordo su alcune situazioni che non sono politiche e insomma si parla di spartizioni diciamo di poltroni e commagnacandana mandano deserto il consiglio comunale e quindi a di allora cari amici del PD ma voi state in amministrazione a Casoria battete un segno o dentro o fuori o no sappiate pure che la cittadinanza la cittadinanza aspetta un'amministrazione che sia capace di darsi da fare per la problematica le problematiche che ci sono sul tappeto che sono tantissime e insomma questi giochetti sarebbe ora che la smettessimo ebbene andiamo avanti il tempo corre ti voglio proporre un argomento particolarmente interessante allora la guardia di finanza inizio anno ha cominciato no questi controlli a tappeto roma cortina milano ecco proprio dalla lombardia è arrivato questo dato sono dati della guardia di finanza cioè quindi incontestabile diciamo di contestabili noi non facciamo altro che divulgarli ai nostri telespettatori fonti ufficiali la lombardia rappresenta il 50 per cento dell'evasione nazionale ma allora gli amici della lega nord che cosa vogliamo dire ma gli amici la lega nord non mi senti dire proprio niente mi sentirei di fare una considerazione cioè ma quali sono le ragioni le regioni più ricche d'italia le regioni del nord lombardia veneto liguria quindi in proporzione le regioni che vado di più inevitabilmente saranno quelle perché se io guadagno 100 lire tenderò a evaderne non so un 20 30 40 per cento ma se guadagno 100 mila lire va bene l'evasione del 30 per cento di quelle 100 mila lire sono molto di più in proporzione rispetto al 20 per cento di 100 lire giusto quindi se in campagna io guadagno 10 lire e lombardia se ne guadagnano 100 mila lire è normale che chi va di lombardia avrà un mondo globale di evasione che è più normale che si evadi assolutamente no ma diciamo stiamo facendo una porzione matematica poi vorrei dire è risaputo che dove stanno i soldi c'è la tentazione di evadere noi qua non evadiamo le meri di euro che i soldi non ce ne stanno quindi che vuoi evadere no diciamo una cosa seria oltre a quelle che abbiamo detto adesso è in atto una campagna precisa da parte del governo monti che si sta occupando di andare a stanare veramente i grandi evasuti questo va bene anche perché bisognava bilanciare quello che è stato fatto sulle buste paga di pensionati di lavoratori dipendenti quindi bisogna far comprendere che ce n'è per tutti non soltanto per quelli che hanno il reddito fisso ma anche per quelli che hanno le imprese fanno un certo tipo di attività e quindi era necessario fare una stretta no da questo punto di vista qua dei soldi che insomma girano e che si sa che girano ma che qualcuno vuole per forza nascondere allora ben vengono questi controlli anche a cortino abbiamo visto quello che è stato fatto ben vengono questi controlli andiamo a cercare i soldi dove ci stanno veramente perché ci sono dei paradisi anche in italia che non sono stati ancora toccati sono paradisi incontaminati prossimo argomento i ministri contro i giovani sono state recenti dichiarazioni di alcuni ministri anche sotto segretario apriamo un bestiale vero e proprio guarda sì ma si apre un bestiale vero e proprio perché basta ricordare quello che ha detto il ministro clinica è venuto a napoli ha detto il ministro dell'ambiente il quale ha detto noi qua a napoli non possiamo fare la raccolta differenziata perché a napoli c'è la prima prima bestiata poi abbiamo avuto il nostro amico michel martone il quale ha detto se non ti laurea a 28 anni sei uno sfigato poi abbiamo avuto il ministro all'interno che ha detto che la signora cancellieri simpaticissima per carità i giovani i giovani la mamma e papà poi abbiamo avuto il primo ministro che ha detto il posto fisso è una noia ma ragazzi miei ma voi la dovete smettere dovete smetterla di dire ai giovani quello che devono fare in questi termini voi dovete dare delle opportunità ai giovani non dovete contestarli criticarli perché io poi vorrei capire no il ministro cancellieri che ha passato una vita intera nell'amministrazione pubblica viene a dire che poi vogliono stare vicino a mamma e papà ma io sono costretto a stare vicino a mamma e papà datevi le opportunità e me ne vado da casa questa è una cosa semplicissima di martone abbiamo già parlato non ci voglio tornare perché veramente ridicolo ma piuttosto io direi che i nostri ministri pensassero a coordinarsi tra di loro e a fare delle azioni concrete per esempio sul maltempo abbiamo passato dei guai veramente seri in questo periodo piuttosto che dire cose che sono delle stupidaggini che se l'avesse detto qualcun altro qualche mese fa si sarebbe aperto una polemica sui giornali da non dire da insomma non è a caso berlusconi eh sì va per forza e vogliono ammazzare il papa è una di quelle notizie che vengono fuori improvvisamente non si capisce poi se le fondi sono oggettive o se sono delle ricostruzioni un po' audaci di qualche collega che giustamente deve tentare di vendere il proprio giornale e quindi dice una cosa che c'è vorrei ricordare a questi colleghi che secondo l'interpretazione nata da giovanni paolo secondo il terzo mistero di fatima è stato svelato per cui un papa ammazzato noi insomma lo abbiamo superato come quindi possiamo stare tranquilli io penserei di sì penserei di sì lo dicono i segreti di fatima viene da sorridere non voglio prendere la possibilità di nessuno no ma per carità è chiaro che c'è chi crede c'è chi non crede però insomma per fare una battuta abbiamo tirato in ballo i segreti di fatima io credo che insomma il papa possa stare tranquillo forse sarebbe meglio che certe butate sui giornali non uscissero però insomma anche questo serve a ricordarci che esistono dei soggetti che esistono degli ambienti nei quali si parla di certi argomenti poi tra poco si sesteggia la madonna di l'urdo quindi ma sì ma sì le difese ci sono tutte qua abbiamo avuto la leggenda di meggiugorio a napoli quindi tu sei un anticlericale convinto quindi andiamo avanti va allora ritorniamo a parlare di politica riforma elettorale e costituzionale come andrà a finire non tengo la palla di vetro caro giovanni però diciamo una cosa io seguo chiaramente come tutti dibattito politico adesso stiamo parlando della riforma elettorale anche della riforma costituzionale io sento parlare sento delle cose che non mi convincono del tutto cioè io penserei a migliorare quello che c'è stringere troppo sui parlamentari io personalmente ho già detto in altra occasione non sono d'accordo facciamoli guadagnare di meno ma teniamoceli lo stesso tutti questi parlamentari perché io non vorrei che si allargasse il divario la difficoltà di contattarli questi parlamentari perché noi già oggi non li vediamo e sono quasi 700 insomma no se lì fuori li ritrociamo a 300 diventano una casta ancora più super casta che diventano ancora più lontani dalla popolazione no 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 io mi riterrei come stanno i parlamentari guadagnassero di meno hanno fatto dei tagli ma sono dei tagli che non servono a un tubo guadagnassero di meno e restassero tutti i parlamentari perché io devo andare a prendere il parlamentare fuori casa mia lo devo trovare per strada non è che se ne tengo 200 lo devo andare a pescare a rumo lo devo andare a pescare da qualche altra parte no perché poi il rapporto tra la popolazione che elegge e il parlamentare si restringe di fatto no è un numero più piccolo ma è evidente che davanti potenti no è anche più facile quindi a me sa tanto di beffa questa per verso il popolo perché a un certo punto se io ho dei parlamentari che invece di essere 600 sono 400 quelli comandano ancora di più ovviamente e saranno ancora più lontani da poco quindi saranno ancora più potenti non mi sta bene per niente chiudiamo con un argomento un po più soft proviamo finalmente sanremo per cortesima perché mai tratto su questa cosa io sono vecchi appassionati tra poco inizia il festival innanzitutto tanto per tirarci dentro una cosa seria direi ma i giovani in Italia sono scompassi cioè ci dobbiamo affidare a calendario che tiene 75 anni Gianni Morati 60 e passa non so quanti anni c'ha ma non teniamo un ragazzo un giovane che va là e si va a presentare sanremo non lo so dobbiamo stare sempre con questi cariatri ma non ce ne devo proporre io ma voglio dei giovani io voglio i giovani mettete un illustre sconosciuto in televisione e fategli presentare sanremo non se ne può più ma siamo convinti che ce l'è andata a fare gli ascolti sicuramente li farà ma se noi continuiamo ad esistere sempre con i vecchi nomi ma quando li vediamo questi giovani al lavoro scusatemi facciamo una bella facciamo abbiamo i social network ci mettevamo sui social network e lanciavamo una grandissima provocazione e cioè volete presentare sanremo mandateci un provino ah vai almeno tenevamo l'offizio di vedere qualcuno che veniva fuori così all'improvviso magari lo affiancavamo chiaramente con qualcuno un po' più esperto però ragazzi diciamo un'altra cosa ce l'è da va bene ma questo è lì festival della canzone italiana così si dice no che poi si dice festival va bene allora se è il festival della canzone italiana ma perché io devo vedere gli sport torniamo sulla polemica rai non è vero per carità ospiti stranieri lasciamo aspetti ci andiamo dopo voglio concludere questo concetto gli sport di celentano ma dobbiamo diciamo avere il festival di celentano o il festival della canzone italiana festival e ok mi pare che non si parla di canzoni ma si parla soltanto degli giusti di celentare cosa non mi sa bene proprio vedete l'unica channel e me lo seguiamo a modo nostro anche il festival di san rio che potrebbe qualcuno di unica channel che potrebbe andare su una cucina di talenti anche per per divertirci un po' su internet ma si atteggiamo c'è basso ma sempre gli stessi e poi si lamentava di pippo baudo poverino no sempre più po po abbiamo notte a pippo baudo abbiamo questa cianetana amore amore sempre ultra 60 se dobbiamo fare giurassic tv ma mi ce lo dite per cortesia e una volta per tutti grande da 45 anni dopo da mezzo pure io i capelli piacerevo e allora amici della rai non fate arrabbiare il direttore di unica channel che già è fumativo di il caffè del tifoso che ci prendiamo vabbè non ci mancava non bastava il napoli ora anche noi parliamo e amici di unica channel penso che abbiamo trattato un po con tutti gli argomenti principali della settimana alcuni ci fanno arrabbiare altri ci fanno arrabbiare ma noi rispondiamo a quelle che sono le sollecitazioni dei fatti così come risponde la gente comune ci saranno dei fatti che fanno arrabbiare le persone comuni così come fanno invece li fanno sorridere noi rispondiamo a queste sollecitazioni perché abbiamo il vizio di parlare con le persone in mezzo alla strada non di metterci su un trispolo tipo i nostri ministri e dire dovete fare così dovete fare così non esiste parliamo con le persone che è la cosa migliore che c'è da fare parliamo con le persone parliamo con le persone e allora il tempo a nostra disposizione si è sorito anche quest'oggi anche questa settimana non mi resta che darvi appuntamento alla settimana prossima per un nuovo approfondimento giornalistico insieme con il direttore giuseppe de silva grazie dell'attenzione